bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo tornati nei pronostici per quanto riguarda la quindicesima giornata di serie B che riprende proprio stasera venerdì 17, porto un po' sfiga, però sono pronte a scendere in campo, Frosinone ed Avellino, vi ricordo che sono usciti oggi anche pronostici per quanto riguarda la tredicesima giornata di serie A che torna dopo la sosta per le nazionali partiamo subito, appunto Frosinone e Avellino, secondo me il Frosinone vincerà per la schedina, infatti vi consiglio l'uno secco, quotato tanto ma molto probabile che Frosinone vinca nel suo nuovo stadio per tornare in betta alla classifica Perugia Carpi, secondo me assisteremo ad un pareggio, vi consiglio per la schedina il gol, dato che secondo me non sarà un pareggio a rete inviolate, anzi ci saranno molti gol Pescara Provercelli, se a noi vincerà il Pescara e vi consiglio a questo punto l'uno X, dato che è quotato molto solo la vittoria Virtus Entella Venezia, se a noi vincerà il Venezia, per non rischiare vi consiglio, dato che per vincere servono i gol gol ospite del Venezia, che anche se dovesse perdere, secondo me un gol lo farà Passiamo a Foggia Ternana, Foggia che nelle ultime partite è in rispolvero, sta tornando verso la media classifica mentre la Ternana, l'esatto contrario, per me vincerà il Foggia e porterà ulteriori tre punti a casa, dato che gioca proprio in casa Per la schedina vi consiglio l'uno X, più over uno e mezzo, dato che nelle partite del Foggia è sicuro l'over uno e mezzo, dato che ne fa almeno due il Foggia e può prenderne zero come può prenderne tre Novara Bari, secondo me il Bari riuscirà a strappare un ponticino in casa del Novara Per la schedina vi consiglio l'X2, dato che il Bari ha le capacità anche per vincerla questa partita e per non rischiare Quindi l'X2, passiamo a Parmascoli, qui vincerà il Parma e ve lo consiglio anche per la schedina, quotato 1.65 Secondo me è davvero tanto, dato che il Parma è super favorito e l'Ascoli invece ha perso addirittura 2-0 in casa contro il Foggia che era diretta rivale per la salvezza Empoli Cesena, secondo me qui vincerà l'Empoli e questo ve lo consiglio anche per la schedina Empoli che ha fatto un po' fatica nelle ultime giornate ma secondo me tornerà alla grande cercando di riprendersi anche sul primo posto Brescia-Spezia, secondo me il Brescia riuscirà ad avere un altro successo in casa per sicurezza Dico 1-X, dato che raramente il Brescia stecca in casa per di più contro lo Spezia che di sicuro non è una squadra ad alta classifica Salernitana-Cremonese, secondo me la Cremonese si fermerà sul pareggio in casa della Salernitana che sta comunque giocando benissimo ma la Salernitana subisce sempre un sacco di gol e ne fa tanti dall'inizio del campionato non è mai passato in vantaggio è sempre passata prima in svantaggio e poi ha rimontato o al massimo si è fermata sul pareggio quindi vi consiglio il gol, entrambe le squadre segnano dato che è molto probabile ultima partita si gioca di lunedì Palermo-Cittadella secondo me il Palermo riuscirà a vincere ma è abbastanza rischiosa dato che il Cittadella dipende dalle partite quello che fa potrebbe anche riuscire addirittura a vincere fuori casa contro la capolista per sicurezza però non credo che il Cittadella riesca appunto a vincere come ho detto fuori casa per sicurezza vi consiglio l'1x quindi il Palermo che farà punti in casa cosa molto probabile questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete like bella